La regola della sostenibilità, lunedì 6 maggio 2024, tante volte è meglio leggere, fra l'Italo così non si sbaglia. Assolutamente sì. Siamo giunti alla parte della trasmissione dedicata alle buone pratiche e stamattina dovremmo avere in collegamento con noi il condizionale d'obbligo. Linda Maggiori, scrittrice, ambientalista, blogger, giornalista e mamma per un mondo migliore come anticipavamo in apertura. Esatto, e come abbiamo detto mamma per un mondo migliore ci sembra un ottimo modo anche di poter definire Maria Santissima che ricordiamo in questo mese di maggio, rimandando sempre l'appuntamento di ogni sera alle 20.45 con il Santo Rosario celebrato da Santa Maria delle Grazie e San Giovanni Rotondo. Autopubblicità, venite perché stasera ci sarò io e terrò un piccolo pensiero sulle virtù di Maria. Ci saremo, ci saremo. Ecco, mamma per la sostenibilità ci piace perché è appunto un modo di essere materno che istruisce ma che comunque, ecco la maternità è un po' il simbolo della sostenibilità perché pensiamo una vita che nel proprio corpo ne fa spazio un'altra e allora ne gestisce le risorse, accoglie quella vita privandosi un po' della propria. E nella maternità c'è una bellissima, bellissima metafora di quello che è anche il nostro mondo della sostenibilità. In questo potremmo essere tutti un po' più materni. Assolutamente d'accordo con te e intanto stiamo provando a collegarci con la nostra mamma per un mondo migliore. Invito la regia nel provare a fare anche una semplice chiamata telefonica. Magari anche un solo contatto vocale ci può aiutare. Semplice contatto telefonico a numero telefonico dove prima ho sentito la nostra Linda Maggiori, una testimonianza che ci farebbe davvero piacere ospitare alla regola della sostenibilità. Intanto potete cercarla se questa figura vi incuriosisce perché essendo blogger è sicuramente una persona che comunica quotidianamente questi messaggi anche attraverso i social. Intanto Tony non so se sei d'accordo possiamo recuperare una notizia che per motivi di tempo non abbiamo potuto dire ma che apre anche una riflessione. Perché da quando poi altro consumo noi sappiamo esserci questa organizzazione che un po' al fianco dei consumatori ha iniziato a occuparsi anche di queste cose ci sono state tante segnalazioni che riguardavano le compagnie aeree. In che senso? Alcuni utenti hanno iniziato a notare un po' di stranezze per quanto riguardasse un aumento dei prezzi che poi non corrispondeva poi tanto alle promesse. E stiamo parlando del mondo green insomma e poi le autorità europee hanno iniziato ad indagare e sono arrivate alla conclusione che sì esistevano alcuni tipi di problemi di greenwashing. Che cos'è greenwashing? Ora tutte le cose che finiscono con washing ce le riportiamo un po' dal vocabolario nuovo americano e indicano tutte quelle pratiche che utilizzano una facciata. In questo caso la facciata della sostenibilità per nascondere in realtà un interesse. Succede per esempio a volte nelle campagne di beneficenza che si utilizzi il nome o comunque un'attività benefica per giustificare un incremento di prezzo però poi in realtà sono solo parole, sono solo un piccolo pretesto perché si sa che il cuore si intenerisce, che le persone sono disposte a finanziare qualcosa. Allora poi succede che uno benevolmente crede di partecipare a un'azione positiva, in realtà ecco quello che fa è partecipare a una truffa. Vedo sullo schermo la nostra Linda. Ciao Linda, ben trovata. Ben trovata Linda, ci siamo riusciti, benvenuta. Ci siamo riusciti, esatto, grazie. Se provi a ruotare il telefono potremmo magari vederti a tutto schermo, vediamo se hai la funzione attivata, altrimenti no, va bene come era prima. Però ci siamo giocati il suono, che è uscito scritto suono disattivato, quindi... Ok, ecco. Ti sentiamo, ti sentiamo, ci accontentiamo così Linda. Linda, non abbiamo moltissimo tempo, ma siamo certi che tu sarai brava nel riassumerci il tuo impegno per un mondo migliore come mamma, scrittrice, ambientalista, blogger e giornalista. Ok, grazie. 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 vogliamo lasciare poi ai nostri figli una testimonianza molto preziosa la tua linda di cui ti ringraziamo perché ci dimostri concretamente che quello che diciamo la regola della sostenibilità non sono fantasie può essere facile però già sento le menti di chi ci sta ascoltando dicendo sì bravi però è scomodo ecco è veramente scomodo tutto questo oppure anche oltre quelli della sostenibilità alcuni aspetti che in realtà rendono tutto ciò molto positivo allora sicuramente bisogna fare dei sacrifici bisogna cambiare anche il modo di pensare di abitudine quindi ridurre no il nostro essere dipendenti dal da anche consumi superflui d'altra parte è fondamentale che lo stato ci aiuti cioè nel senso che la mobilità sostenibile ad esempio ridurre l'utilizzo dell'auto è veramente difficile in zone interne dove i mezzi pubblici praticamente non esistono quindi in tutti i paesini montani o non solo montani insomma quindi è fondamentale veramente fondamentale che vengano ripristinati tutti quei collegamenti che magari una volta c'erano c'erano più treni e più autobus di adesso quindi da una parte noi cittadini dobbiamo fare la nostra parte ma lo stato ovviamente deve favorire questi stili di vita sostenibili è corretto però è anche vero che al di là di necessità specifiche soprattutto legate magari al mondo del lavoro necessità specifiche altre tante volte mi ci metto io per primo utilizziamo l'auto davvero in maniera superflua spropositata per percorrere anche pochi pochi metri non poche centinaia di metri quindi effettivamente un impegno in tal senso sarebbe auspicabile per tutti esatto esatto si è una questione molto di abitudine noi viviamo in uno dei 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 paesi più motorizzati al mondo sembra una cosa strana ma l'italia veramente un paese che ha circa 65 auto ogni 100 abitanti ci sono più auto che bambini quindi ecco e questo per dire anche la saturazione dello spazio i nostri bambini fanno fatica anche a giocare come era una volta i bambini giocavano sulla strada adesso non è più possibile quindi dobbiamo veramente ritornare a un livello a una demotorizzazione a una riduzione di questi oggetti superflui che inquinano e saturano gli spazi della città ecco fra italo quando si dice la virtù sta nel mezzo magari non gli eccessi ma almeno una buona via di mezzo c'è il mio papà che mi racconta sempre che mio nonno faceva 7 chilometri al giorno ad andare e 7 chilometri al giorno a tornare per andare al lavoro noi invece abbiamo paura di fare 7 passi una volta era normalissimo io sono stato in albania a visitare una terra di missione nostra missione dei cappuccini era bellissimo vedere la domenica mattina gente che veniva per partecipare alla messa facendo addirittura due ore e mezzo di cammino dal proprio villaggio e si vedeva questo grande fiume festoso che arrivava però era una giornata di festa una giornata di famiglia una giornata soprattutto senza stress parlavamo Linda di un'applicazione poche puntate fa che riguardava insomma aveva l'obiettivo di ridurre lo stress da parcheggio una nuova malattia perché la macchina si porta anche questa cosa qui ora magari però io pensavo sempre a chi ci sta ascoltando che una vita come voi l'avete ci può essere da esempio però fa molta paura anzi ci vuole una determinazione molto forte ma io so che tu secondo me puoi farci un po' da modello anche per cose più semplici che si possono fare già da adesso tutti i giorni Linda tu che cosa dici alle famiglie che ci stanno ascoltando in questo momento e dici va bene la macchina tenetela però sono convinto che questo lo potete fare sì allora sicuramente ci sono tanti piccoli step ad esempio oltre ecco a ridurre no come dicevamo prima per quanto riguarda l'auto basterebbe ridurre l'utilizzo dell'auto per le distanze più brevi ma a livello proprio di sostenibilità possiamo anche semplicemente ridurre i rifiuti che produciamo quindi quando andiamo a comprare frutta verdura eccetera magari ci portiamo la sporta quando preferiamo i mercatini locali dove poter comprare da agricoltori a chilometro zero ecco tutte queste piccole azioni sono fondamentali per ridurre il nostro impatto sull'ambiente grazie grazie prego prego Linda perfetto ecco tutte queste cose ecco non soltanto diciamo riducono l'impatto sull'ambiente ma fanno bene anche la nostra salute quindi possiamo dire anche è un impegno bello bello e comunque anche non è soltanto altruistico ma anche egoistico per così dire perché comunque aiuta moltissimo ecco la nostra salute era esattamente il pensiero che non espresso lo esprimo adesso che facevo quando parlavamo di camminare è risaputo ormai che camminare non solo appunto fa bene al nostro organismo alla nostra salute ma ognuno di noi dovrebbe camminare almeno mezz'ora al giorno se non ricordo bene o forse anche qualcosa in più per cui vogliamoci bene possiamo potremmo concludere anche così grazie Linda per la tua per la tua disponibilità speriamo di ritrovarti in futuro se hai notizie news aggiornamenti non esitare a contattarci assolutamente grazie a tutti ciao e noi anche dobbiamo lasciarci perché è finito il nostro tempo l'appuntamento è la settimana prossima lunedì con la regola della sostenibilità e noi vi lasciamo alla celebrazione eucaristica da San Giovanni Rotondo sempre in diretta presiduta da Fran Nicola Monopoli buon proseguimento di giornata grazie a tutti grazie a tutti